Sì, la Sofia, sì, la tua mirata, sì, la tua mirata, Sofia Il momento più bello del tuo percorso lavorativo? Il momento in cui sono entrata a far parte di Aria Parlo per me questa serata qui ad Aria, come rappresentante di Aria Benissimo, che cosa fai per la tua salute? Ah, moltissime cose, faccio sport, mangio sano, mi piace leggere E per il tuo benessere? Per me non le stesse cose, nel senso sono molto attenta, tanti dettagli Completa la frase, perché rivolgersi ad aria? Grazie, perché c'è uno spazio per trovare delle risposte, in qualche modo, un ascolto Benissimo, noi ti ringraziamo e ci vediamo alla prossima Ciao ciao, buona salute a tutti Ciao, dalla salute in comune